bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo pronti e carichi signori con il sole che sta albeggiando alle nostre spalle oggi andremo a esplorare la fortezza signori ebbene sì ebbene sì abbiamo tutto pronto o l'inventario quasi vuoto abbiamo 15 blocchi di terra 30 di quel di legno che magari ciò si serviva per fare degli sticchettini le torce le abbiamo abbiamo tutta la nostra armatura in nederite e anche i nostri strumenti nuovi ho fatto la pala in diamante e poi ci portiamo anche dietro una barchetta e un letto signori perché il portale è molto distante detto questo signori intanto prima di partire il video vi ringrazio per like per i commenti per gli agenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno io l'obiettivo l'opposto tutto dipende da voi signori mi raccomando dal vostro entusiasmo nel supportare serie e canale detto questo io ora taglio completamente il viaggio che ve lo elimino perché siamo a più di 3000 blocchi di distanza e noi ci vediamo quando siamo direttamente nel neder signori così partiremo per per l'esplorazione incrociamo le dita signori e speriamo che tutto vada bene ci vediamo dopo ok signori ci siamo siamo nella fortezza non vi sto a spiegare la pesantezza che ho dovuto affrontare per arrivare qui perché tra l'altro abbiamo detto il portale per arrivare qui nella fortezza e a 3000 blocchi da casa nostra sì peccato che quando ho scritto le coordinate mi sono dimenticato di mettere un meno davanti signori aia che cazzerone chi è papà papà vattene a quel paese ma guarda questo che viene a rompere le scatole subito neanche il tempo di partire che già subito me la devo vedere con questo ma porca miseria ma stati zitto bello che qua dietro c'è la lava quindi se continuiamo a correre in questa direzione saremmo finiti nella lava che cosa carina e simpatica diciamo che il letto e barca al momento non ci servono più sistemiamo un attimino questa zona della di lava e vi stavo dicendo che praticamente ho fatto circa 3000 blocchi sento anche un porcellone ma che cazzo lei siamo nella fortezza non dovrebbero esserci tutti questi rumori strani e quindi vi dicevo signori che ho fatto 3000 blocchi e sono andato porca miseria come l'abbiamo schivato interessante però interessante one shot one kill spettacolo da dove cazzo ora è spawnato da nulla cosmico qui c'è un'apertura che non ci piace allora noi ci stiamo un attimino perdendo in chiacchiere allora qui come noto c'è solamente lava che non ci interessa al momento più di tanto allora sì stiamo calmi mettiamo delle torcine qui per cercare di capire che casa nostra in questa direzione ok vabbè abbiamo deciso di andare di qua andiamo di qua il fato ha voluto che andassimo in questa direzione e il fato vuole che noi ammazziamo anche quello scheletro in maniera veloce e decisa perfetto e quindi signori vi dicevo ho fatto 3000 blocchi con la x distanza da casa per arrivare in un punto e non trovare il portale signori ho detto cosa cazzarola è successo nulla di qua nulla di qua e nulla di qua ho capito ma che cazzo la siamo venuti a fare da questa parte niente praticamente no e invece no perché c'è fortezza c'è fortezza c'è fortezza c'è anche un altro guida scheletro il fatto di guida scheletro non mi piace signori perché noi comunque dobbiamo trovare le nostre bellissime testoline e zio e zio vieni qua che la festa è iniziata allora bello così ok che m'ha droppato una spada di pietra che non ci serve a niente ok vediamo se di qua si passa pure continua a sentire no mi sa che di qui la fortezza continua no di qui la fortezza finisce palesemente nel nulla cosmico che a noi non interessa più di tanto e stiamoci lontani quindi per concludere sempre il discorso di prima ho fatto sono andato a più 3000 blocchi della x e quando mi sono trovato in un punto in cui non c'era assolutamente il mio portale poi ho riguardato il vecchio filmato signori mi sono reso conto che devo andare a meno 3000 blocchi quindi in pratica ho fatto 3000 blocchi andare e poi altri 6000 blocchi per tornare al punto dove c'era il mio portale cioè una cosa obre obreosa terribile signori terribile terribile però alla fine ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta salve 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 ok qui abbiamo una torcina che ci ricorda la zona dove dove siamo arrivati forse l'esploreremo tutta oggi questa fortezza non lo so non lo so tra l'altro ora aprendo l'inventario mi è venuto anche in mente tra l'altro signori siamo andati a trovare anche il bioma della neve e del ghiaccio dai così recuperiamo dei livelli e sistemiamo il piccone il bioma del ghiaccio in cui siamo riusciti a ottenere della neve signori ebbene sì ebbene abbiamo siamo riusciti a regolare anche la neve quindi in un prossimo video possiamo anche creare uno snow golem ok calma calma ok a qui è dove ho chiuso io perfetto quindi non intanto lo riapriamo ok quindi abbiamo fatto il giro giro tondo quanto è bello il mondo va bene e continuiamo di qua signori senza paura e senza induzione andiamo dritti di qua spada in mano cortesemente perché qui i with the skeleton e un attimo sento le blades e questa cosa già ci fa paura però le blade ci servono signori le blade ci servono eccole dicevo che le sentivo damo se damo se mori male mori male già incendiato ok ma non ci frega più di tanto fin in quel fuoco c'è troppato qualcosa manco per il cucolo allora l'anno è spuntato un'altra potremmo ucciderle con no 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 una blaze accesa una blaze pericolosa una blaze accesa e una blaze pericolosa quindi se noi riusciamo eccole la bastarde che non siete altro dovete morire tutte e due tutte e due anche tu anche tu decidete chi prima dei due e abbiamo preso anche la blaze rod quante me la date 5 ne abbiamo parca miseria ottimo ottimo risultato signori ottimo risultato allora no 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 mi sono sentito michael jackson col passale indietro devi morire male ok perfetto così magari magari questo lo spegniamo che grazie gentilissimo questo lo spegniamo pure dobbiamo spegnerlo il portale di lo spawn no possiamo lasciare tranquillamente c'è se vediamo se qui qua c'è si continua no niente interessante questa parte abbiamo nuove blaze ne recuperiamo qualche altra per sé per no ma sì dai per qualche qualche altra la possiamo recuperare ok va bene va bene quante sei una e che ci faccio con una zio perché mi stai colpendo io non riesco a colpirti mannaggia a te dieci bellezza rodo già sono sono un bel bottino sono un bel bottino dai ripeto riusciremo a registrare a esplorarla tutta no signori no perché dobbiamo fare i video con calma non dobbiamo non ci ammazza nessuno non ci non ci insegue nessuno quindi tutto con molta calma con molta semplicità buttiamo le cose che non ci servono tipo questo tipo questo per buona me lo tengo sinceramente e di qua no di qua teniamo tutto e questo adesia profonda questo possiamo buttare anche questo via e non ci pensiamo salve mi sei venuto a trovare e io ti vengo a ammazzare direttamente senza problemi c'è anche tuo fratello lì perfetto andiamo a trovare anche tuo fratello dai così muori anche te perfetto mangiamo no no mi sa che mangiamo al prossimo giro mi sa che mangiamo al prossimo giro signori mi sa che mangiamo al prossimo giro e forse il prossimo giro è già arrivato ma no 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 troppa gente per i miei gusti decisamente troppa gente per i miei gusti mangiamo calma calma mangiamo a morire ci stiamo un attimo quanto è bello abbiamo 15 a morire ci stiamo proprio un attimo ok farle divertire farle fare tutti stessi tutti sti suoni strani ora accendiamo noi e le suoniamo per bene dai così dai così dai così non ci sto capendo niente dov'è l'altro dove l'altro ok siete morte tutte no stanno continuando a sponare come se non ci fosse un domani siamo in grado di ammazzarle sì ce ne manca una sola mannaggia per riportare un attimino la pace e la serenità nel mondo perfetto pace e serenità riportata io direi signori blocchiamo un attimo no non blocchiamo proprio niente decisamente non lo lasciamo lì bello tranquillo 24 e soltanto facciamone fuori qualcuno con l'acqua signori perché sennò la zona è diventata un pochino pericolosa decisamente sì la zona è diventata un pochino pericolosa mannaggia mannaggia e dai ma poi ci hanno una mira infallibile porca miseria se sono infallibile se morite tutte quante tutte dovete morire dovete morire tutte tutte io vi ho creato io vi ammazzo morite tutte muori un po muori un po dai così chi c'è ancora vivo tu mannaggia a te o me lo fate spegnere sto perfetto ok ok l'abbiamo un attimino preso in nuovo abbiamo 31 blaze road l'ho reso in nuovo mannaggia a te ok siamo tornati in un attimino in una fase di calma 30 del blaze road penso che ci possono bastare per il momento facciamo un attimino di menti locali di nuovo ok da dove cazzarola venivo io allora io venivo da qua perché vedo una torcia abbandonata al nulla ok qua c'è il nostro portale signori ok continuiamo l'esplosione da questa parte ok l'importante è non perdersela di qua c'è lo spawn perfetto ok di qua penso che si sale andiamo da questa parte dove non ci sarà assolutamente nulla proviamo tentiamo uno scavo profondo ma non penso ci sia niente di interessante infatti non c'è assolutamente nulla ok spada sempre in mano signori e andiamo dal lato opposto delle blaze road di qua che c'è la nostra bellissima scaletta io non metto torce così vediamo se riusciamo a mantenere lo spawn attivo anche di wither skeleton riuscissimo a trovare anche delle testoline di scheletro non sarebbe male come come obiettivo obiettivo anche perché non ho la minima intenzione di tornarci in questa fortezza siamo troppo lontani da casa siamo decisamente troppo lontani da casa e non ho la minima intenzione di tornarci 33 non me l'hai droppato brutto bastardo e ammazza te allora io ti ammazzo ok lui me l'hai droppato 35 dai certo che il looting fa tanto signori il looting sulla spada e tanta roba allora continuiamo l'esplorazione esplorazione di qua di qua c'è niente no è una strano c'è la scaletta che sale saliamo 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 ok ok lago di lava sento ancora delle blades che in questa situazione non mi fanno proprio impazzire le blades mentre noi percorriamo il lago di lava proprio non sono per niente gradite però spada in mano e non abbiamo paura di nulla signori ok qua non c'è nulla nemmeno se scava all'infinito c'è dell'oro allora l'oro me lo porto tanto qui i pilgrim non ci sono e quindi l'oro ce lo possiamo portare a casa signori dici ma ti serve no però sai meglio dire che è meglio avercelo per fare una un'armatura improvvisata un'armatura improvvisata io continuo a sentire le blades rods ma non le vedo più questa cosa mi mi turbo mi turbo parecchio saranno sempre quelle di sotto penso di sì penso di sì che continuano a spawnare come se non ce lo sono domani tant'è vero che qui ci saranno blazer o si va bene sono rotto le palle di questo blazer o andiamo allora torniamo zona iniziale dove c'è il nostro bellissimo portale perfetto andiamo qui ci sarà qualcosa di qui arriveremo un punto interessante no altro muro altra zona cieca signori ma proprio cieca in tutti i sensi di quasi casca di sotto via stiamoci lontani lontanissimi anzi via 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 torniamo indietro torniamo indietro allora il nostro portale di qua noi abbiamo questa zona di qualche che c'era lava e di qua noi se non sbaglio no non c'erano mandati ma non c'è nulla anche se di là la fortezza continua di là la fortezza continua no no sì 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 di là ci siamo andati di là ci siamo andati perché ricordo che siamo andati di là abbiamo girato a sinistra e non c'era assolutamente nulla è vero si 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 qua la fortezza continua ma non si dovrebbe andare da nessuna parte dovrebbe finire così praticamente sì e infatti va bene ok ok di qua secondo voi continua non lo so ma lo scopriremo a breve stiamo ispezionando tutte quante le zone ok apriamo questa zona di qua che sicuramente ci riunirà con la zona dove siamo passati prima perfetto ok qua abbiamo questo in questa direzione abbiamo perfetto abbiamo esplorato questa zona di qua ok signori diciamo che questa parte di qua della fortezza è stata esplorata andiamo avanti ovvero usciamo dalla zona x mangiamo se devo portarmi qualche fettina di carne in più sopra c'è nulla no andiamo di qua allora di qua c'è tantissima lava ma la fortezza penso che finisca lì sì sì la fortezza finisce finisce lì e allora andiamo di qua sperando che ci sia qualcos'altro interessante no come cazzo è possibile che la fortezza finisce qua c'è qualcosa che non mi torna signori c'è un qualcosa che non mi quadra dove cazzo è la mia fortezza c'è qualcosa che non mi torna signori dove dov'è la mia fortezza la vedo un altro mezzo ponte dov'è la mia fortezza fermi tutti io ho sudato 7000 camicie per raggiungere questo obiettivo di qua e non c'è non finisce così no non esiste proprio ma non esiste mai nella vita ma dov'è la mia fortezza signori non sto parlando perché sono scioccato voglio la mia fortezza no ti la finisce ti la finisce signori un attimo un attimo piccolo piccolo break signori devo trovare il resto della fortezza perché non può essere così piccolo ma redetta blaze del cavolo mi spiegate cosa ci fa un magma cube poca miseria a te e a chi non te lo dice più prima la preferisco il Wither Skeleton più che il magma cube quindi voi morite male morite morite grazie gentilissimi non ho a che farmene di voi sinceramente quindi va bene via via shou 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 a te e shou a te shou shou ok dobbiamo 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 cercare la fortezza signori dobbiamo dobbiamo devo esplorare devo esplorare per capire dove è la mia fortezza ok qualcosa l'abbiamo trovata non so allora sento allora stiamo calma calma e tranquillità qualcosa ho trovato ha un altro spawn di blaze che dobbiamo andare a bloccare subito in maniera velocissima occhio al occhio se ci spunto Wither Skeleton che ci ammazza malissimo ok 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 andiamo a bloccare questo spawn ok ok quindi lo blocchiamo così alla meno peggio ma non funzionano le frecce le torce su questi spawn di merda praticamente scusando il francesismo ok calma quindi noi veniamo da questa zona di qua mettiamo la torcia di qua sembrerebbe non esserci niente ma noi indagliamo un attimino per sicurezza ed effettivamente non sembra esserci niente mangiamo mangiamo la la fettina di carne spada in mano ok di qua si sale di qua si sale quindi di qua inizia una nostra 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 altra esplorazione della fortezza ma signori per questo video mi fermo qui voi direte ma sei scemo? si signori vi lascio con la colina di continuare l'esplorazione in tutto questo dobbiamo anche riuscire a recuperare le tre teste del deluider si dobbiamo riuscirci anche nei prossimi video quindi o il secondo video sarà più veloce quello di domani più lungo quello di domani o ci sarà anche un terzo video dedicato proprio alla ricerca del test deluider signori ma per stasera ci fermiamo qui noi ci vediamo sempre domani qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao